Anna Kalinskaya, bellissima fidanzata ufficiale di Yannick Sinner fa parlare di sé anche quando non fa nulla. La bellissima tennista Anna Kalinskaya ha guadagnato popolarità in Italia, in parte grazie alla sua relazione con il tennista italiano Yannick Sinner. Inoltre ci sono indizi che Anna potrebbe partecipare alla settimana della moda di Milano, dove Yannick Sinner è atteso come ambasciatore Gucci. Yannick Sinner parteciperà a diversi tornei imminenti, tra cui l'ATP 500 di Pechino, il Masters 1000 di Shanghai e le finali ATP di Torino. Ultima partita di Kalinskaya, Anna Kalinskaya non gioca dal 1 settembre, quando è stata eliminata dagli Stati Uniti Open da Beatriz Haddad Maia.